ARP 556 3.0 dell'amico Gianluca al quale ho effettuato un custom da circa 35 pallini al secondo con una reattività pazzesca mantenendo la sua etu originale e per la prima volta monto un pistone e testa pistone retro arms che si sono rivelati fantastici caricatore pts da 150bb e andiamo a vedere come tira e come suona un vero e proprio laser ragazzi replica che per i miei gusti personali è veramente fantastica tra questo e l'ARP 9 in in questo design secondo me è un qualcosa di veramente eccezionale come sempre ragazzi per qualsiasi info e custom contattatemi al numero che vedete qui sullo schermo e iscrivetevi al mio canale instagram youtube e come sempre ci vediamo al prossimo custom ciao 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 ciao